sentite sentite come ormai sanno tutti io vivo a milano da un anno c'è a milano bellasimi corcodio uo dove andremo? magari altri due lo sanno perchè ovvio mi ha portato la sua generata faremo due settimane due settimane nella Kulesha House di Treviso ci hanno considerato anzi ci hanno negato l'ingresso a Treviso a meno che io sottoscritto ed Andrea Kimi Omnitol non ci soccoponiamo al test del tampone bene 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 siamo tornati alla normalità basta basta cazzate non sto in Kulesha House non sto già in Kulesha House non sto già in Kulesha House sarebbe stato divertente ma no partiremo probabilmente probabilmente si partirà domani 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 o stasera direttamente vediamo un attimo che c***o di idea ma prima non è uno scherzo dobbiamo farci il tampone per vedere se abbiamo il coronavirus ci hanno obbligato ci hanno esplicitamente detto fatevi il tampone fatevi il tampone perchè non vogliamo che infettate tutta la Kulesha House con che macchina col treno o no scappiamo dalla quarantena usciamo dalla quarantena barchiamo le pareti e ce ne andiamo se devo fare il tampone andate in treno? si non so se i treni stanno o no come si fa? moment grazie per i tre mesi controllami la prostata con quei c***o dei guanti dottor Spalletti per sfavore tipantipanettipanettipanettipanettipanettipanettipanettipanettipanettipanettipanettipanettipanettipane è stato dalla sanità italiana www. non mi ricordo che ha detto ministero della salute devo chiamare il 112? chi c***o chiamo? chi ha chiamato le informazioni? la guardia medica la guardia medica mi scappano! a che c***o devo contattare? tamponi? esistono tamponi coronavirus su amazon? quanto rimane silenzio? andate per favore nella live di Paolo Cardona che non posso fare il tampone? e che ne so che io non l'ho preso oggi mangiando quel mcdonald mi sa che non si trasmette col cibo però Daniele ce l'ha o credo? spero però in realtà non voglio tirarla a Daniele ma credo deve fartelo un medico chi lo fa? come faccio a sapere? adesso noi andiamo in Clash House mettiamo l'ipotesi vado in Clash House ok? io so che sta bene però in realtà non lo sto e io infetto tutta tutto il Veneto no dov'è Clash House? il Veneto ha 32 contagi porco due la Lombardia 172 contagi 5 decessi ma sono anziani pure Roma cioè io in Veneto non vorrei essere uno di quei 32 contagi non è che voglio portarne altri capito? perciò non si può fare il tampone per capire che modo non c'è nessun modo per capire allora dobbiamo andare comunque dobbiamo avvisare Paolo Cannone o fa finta di averlo fatto possiamo ingannare il Paolone? forse mi sta in partita Paolo mi senti? sei in live da me? andate in un centro massaggi cinese che ormai non combinano più una sega si sto in live anch'io però tu ti sentiranno ah dimmi dimmi però dimmi abbiamo un piccolo problema con quella faccenda lì con la richiesta che mi avevi fatto si non si può fare non si può fare non si può fare non si può fare come bro per me non è un problema voi non avete la sfettura tosse brutte no però ha 14 giorni di latenza credo da quello che ho capito eh lo so come fare in macchina o in treno? a piedi a questo punto non so più di cosa fidami ma il treno ormai è pericoloso è pericoloso è pericoloso ma noi non abbiamo paura perciò verremo in treno verremo in treno eh munitevi di mascherina sì ho due litri di amuchina non so se servono ma non è il fatto di amuchina non ti devi mettere le mani in bocca comunque è quello no 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 tranquillo tranquillo e questo io non ho paura io non ho paura è solo che in gaming house giustamente dicono ma non è che ci portano la mattia questi milanesi però dai quindi venite domani tu e andrea e basta no vengono anche altre due ragazze sì ok va bene allora i letti li devo far preparare anche per loro sì se se vogliamo lasciarle ma dovete avere delle doppie cioè tu dormi con le ragazze ma di preferire una stanza una stanza per tutti quanti magari così evitiamo anche di non ho capito se dovete fare sesso ho capito no paolo no non si può ma 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 chi sei ma siamo è professionale la cosa non è che siamo sono dei grandi amici ma ma sì ma più che amici anche stiamo parlando di lui cioè comunque è un'altra streamer siamo colleghi ah quindi non si non si accoppiano no paolo no io comunque chiedo una stanza singola per non dar fastidio per non creare per non imbade troppo quindi dei singoli vanno bene mi stai dicendo Simo una stanza una stanza in comune va bene se dormite in quattro insieme è un problema guarda no per me no ah comunque chiedo di fare due stanze due per una per la ragazza o una per voi fai una stanza sola ah preferisci una stanza con i matrimoniali quindi se ci sono ci accontentiamo va bene Simo stai un po' ritrattando mi sembra Paolo non ti sento dai viaggiamo dopo ok ciao Paolo buona partita falli 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 neri ciao spacco il culo ciao Paolo uè lui si ciao come stai sei live ok ok dimmi tu non hai nessun sintomo raffreddore hai starnutito del recente no ok perché come hai potuto sentire prima non possiamo fare il tampone il tampone allora io ti dico che però io e Mary abitiamo a un quarto d'ora dal caso quello di schiamonia ok ok e poi io ho casa vicino a sesto san giovanni dove è stato l'altro caso ah bene magari c'è pure che ne so i parenti in cina magari e poi magari chiedo eh magari sì però dovrei indagare sull'albero genealogico ok ok comunque tu ti senti sana ti senti sana sì mi sento sana anche Mary credo sia sana spero no Mary ha un po' di tosse ok comunque abbiamo contrattato per una dato che non hanno spazio saremo tutti quanti in stanza insieme ah stanza singola ok tutti insieme sì ok spero che non sia un problema per te no ok però i letti sono divisi vero abbiamo abbiamo purtroppo non hanno la possibilità e hanno dei matrimoniali saremo insieme magari magari ti metti con Omi ah ok va bene con Omi ok non è un problema Omi basta che tu sai che Omi ha un nessuno conosce il piccolo problema di Omi hai mai visto basta che non russa no guarda basta che non russa hai mai visto Shrek il film sì hai presente Fiona che ha quel problema dopo la mezzanotte esatto e Omi è simile Omi è simile ma nel senso che diventa principessa oppure che diventa orco dopo la mezza diventa si allunga il cazzo da almeno 20 centimetri è una cosa mostrosa che è un po' difficile da gestire ma comunque si può tenere a bada si può tenere a bada ok porto porto le mie cose le mie cose le tue cose va bene così le mie corde le mie corde le mie cose ah ok ok non senti le manette per fermarlo o per non Omiatola una mazza che in confronto a quella di vostro padre è una proboscide di elefante esatto go go grazie per 100 bits anche go go sa va bene va bene comunque questo ma la tuta la devo portare la tuta eh voi ometti che casomai qualcuno di noi si sente male ci possiamo mettere mascherina guanti tuta cioè io porto tutto eh come è fatta la tuta eh tipo quelle che avevate voi quelle bianche ah ok ok io ce l'ho rossa perché io sono rossa io ce l'ho rossa ok ok va bene è giusto si porta 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 portamari porta la porta va bene va bene e niente ci aggiorniamo per 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 ok ok ciao 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 ciao